Oggi non solo un sit-in, ci saranno anche delle dirette con delle tv nazionali? Sì, si è acceso un faro su Crotone perché ovviamente quando di mille persone che perdono i posti di lavoro in Calabria, 400, impattano su un unico territorio, che è questo qua, in pochi mesi, tra dicembre e gennaio, e ce ne sono altrettanti che rischiano di perdere i posti di lavoro in questa città già martoriata, è normale che si accendano i riflettori anche della televisione nazionale. Il problema è che, come sindacato unitariamente, CGL Gislewil, da luglio stiamo denunciando che gli effetti del decreto dignità avrebbero potuto comportare questi disastri occupazionali. Il problema è che non c'è stato ascolto da parte delle parti politiche e ci dispiace anche dei media nazionali che hanno dovuto attendere solo e esclusivamente che ci fosse questo dramma occupazionale su Crotone per accendere un faro, come dicevo, sulla vertenza precarico al center. Bene, oggi in questo momento, tra le 17, c'è un tavolo ministeriale in cui si discuterà proprio di questo e noi proviamo, abbiamo mandato una comunicazione unitariamente a tutte le prefetture per attenzionare il governo su quello che sta accadendo in Calabria. Al di là dei commenti su cui non vogliamo scadere strumentalizzazioni politiche su quelli che sono gli effetti del decreto dignità, c'è un problema occupazionale. Ci sono mille persone che hanno perso il posto di lavoro e 500 che stanno per perderle. Come intendete organizzarvi da oggi in avanti? È complicato perché non si può superare la precarietà con un decreto. Bisognerebbe dare gli strumenti in mano alle parti, siano quelle sociali o datoriali, quindi sia i datori di lavoro che le organizzazioni sindacali, mettere gli strumenti a disposizione per poter fare attraverso la contrattazione e portare lavoro stabile. Certo ci vuole un sostegno da parte del governo, da chi praticamente ha la possibilità di poter fare le giuste misure, di poter adottare le giuste misure per mettere a riparo un settore che è veramente dilaniato dall'assenza di regole e da tutta una serie di questioni che sicuramente non hanno dato negli anni soluzione a tutti questi lavoratori. Un'altra giornata di protesta qui a Crotone per focalizzare su quello che è un problema ormai che è diventato insormontabile dopo l'applicazione del decreto dignità. Noi purtroppo avevamo già da tempo il problema della precarietà in questo settore. Lo stiamo cercando di affrontare da tanti anni come sindacato senza riuscire mai a risolverlo. Quando è venuta fuori questa idea del decreto dignità noi onestamente eravamo fiduciosi che finalmente ci potesse dare una mano a risolverlo il problema della precarietà. Purtroppo quando è stato realizzato non si è tenuto conto di alcune situazioni spinose particolari di questo settore e quindi il risultato che si è ottenuto è esclusivamente che dalla precarietà si è passata alla disoccupazione. E questo per un grave errore di valutazione del governo che non ha voluto ascoltare le parti sociali, le organizzazioni sindacali che ben conoscevano il settore e sicuramente avevano già previsto quello che è successo oggi. I lavoratori oggi hanno bisogno di lavoro. Capiamo bene che forse questo governo punta esclusivamente sul reddito di cittadinanza che dovrebbe creare lavoro. Ma se noi con le norme che mettiamo in campo non riusciamo a tutelare quantomeno il lavoro che c'è e facciamo le cose per bene rischiamo sostanzialmente di andare a fare aumentare quel fiume di disoccupazione che si trova oggi in Calabria.